Musica Ci troviamo a San Romano, uno dei borghi rurali più antichi del comune di Baizo. Il borgo manifesta caratteristiche essenzialmente agricole. Musica Musica Interessante è lo spazio circostante la chiesa, dove oltre ad ammirare la chiesa, è possibile osservare un complesso rurale con una torre colombaia. Musica Musica Il paesaggio ambientale di San Romano da percorrere camminando mostra una vista assai suggestiva. Si ha la possibilità di osservare il burgo antico incastonato tra boschi, calanchi e coltivazioni agricole. Musica 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 Musica